Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale di Pippo Quarto. Questo non è un video nuovo, bensì riciclato, uno di quelli che all'epoca fu contrassegnato con il bollino giallo, e poco gradito alla confraternita perché accompagnato dal solo audio, senza un minimo di descrizione. Beh, la faremo oggi. Occhio, perché qui partono pure le coronarie. In questo video Silvia indossa un leggings, che, sebbene sia di velluto, non riesce a nascondere quella sorta di dosso colline a separare le carreggiate. Questa fanciulla ha linee così sinuose che risulterebbe elegante anche se mettesse uno straccio, tipo quelli che trovi sul salando. Caro marito, quanto ti invidio. A proposito, ma qualcuno di voi conosce il brand Cadill Dugs? Ecco un altro brand che nessuno conosce, nemmeno chi lo ha creato. Ma a noi interessa sottolineare come anche il colore rosso le doni. Immaginate se Silviuccia dovesse un giorno presentarsi alla porta di casa vostra in vestaglia. Grazie. 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 Dopo aver testato l'elasticità del leggings e la sua aderenza anche quando ci si accovaccia, ecco arrivato il momento di mostrare il numero di targa. Mi raccomando, non fatevelo scappare. Ragazzi miei belli, spero che il video vi sia piaciuto. Grazie della visione e arrivederci alla prossima